Si svolgeranno il prossimo 1 luglio le ultime perizie sullo Yug Wine Glass di Toyoito in Piazza Salotto. L'intera area verrà chiusa e transenata per circa 4 ore per consentire al perito incaricato del Tribunale di Pescara, l'architetto Lucarelli, di effettuare i carotaggi all'interno della struttura, che serviranno a individuare le cause del cedimento del calice di vino, irreparabilmente danneggiato nel febbraio del 2009, appena 64 giorni dopo la sua installazione. Si tratta di prove fondamentali per consentire di chiudere la fase delle indagini e quindi consentire al Tribunale di liberare la struttura sul cui futuro deciderà l'amministrazione comunale. Lo ha ufficializzato il sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, dopo aver incontrato il perito. Dovrebbero essere le battute finali di quella lunga vicenda su di un'opera costata 1 milione e 100 mila euro. Purtroppo decine di incontri, colloqui e lettere tra il Comune, l'architetto Toyoito, autore del progetto, e la Claxitalia, che ha realizzato materialmente la struttura in polimetal metacrilato presso i propri stabilimenti di Pomezia Terme, non hanno consentito di individuare le cause della frattura che costringe a tenere in piazza una struttura rinchiusa in una gabbia d'acciaio per impedire che vada in frantumi. Un anno fa l'amministrazione comunale si rivolse al Tribunale per individuare le cause del flop e ottenere anche un eventuale risarcimento per l'immagine della città che ne è comunque uscita danneggiata. Da allora non si è potuta assumere alcuna decisione circa il futuro del calice e anche sul nuovo assetto organizzativo da dare a piazza Salotto.